Continuiamo con pazienza nella nostra operazione di individuazione delle risorse. Che cosa possiamo fare in questi tempi assurdi, quando tutto intorno parla un linguaggio che a me pare perverso? Energia. Proviamo a riflettere sul tempo energia, sulla parola energia, e proviamo a vedere come la nostra società la utilizza. Ovviamente l'energia fossile, l'energia combustibile, l'energia per muovere il mondo, quella che inquina, oppure le rinnovabili. Oppure l'energia delle pubblicità, dei prodotti alimentari, superfood. Oppure, per prendere un po' in giro tutti quelli che parlano di energie in modo bizzarro, come questo mondo new age, gli esoterici. Eppure, tutto è energia materia coscienza, questo è un dato così scontato. Tutto è energia materia coscienza. La grande catena dell'essere è fisio, bios, nous, quindi materia, vita, cioè energia e coscienza. Questo vorrebbe dire, questa è la famosa grande catena dell'essere. E se noi volessimo avere un atteggiamento umano, non dico integrale o illuminato, umano, e quindi di conseguenza anche scientifico, dovremmo comportarci come se tutto fosse energia materia coscienza. Ci vuole l'energia sufficiente per fare qualche cosa. Cosa vuol dire? E come possiamo fare quindi? Beh, primo non disperderla. Perché non è che c'è qualcuno che ci insegni come non disperdere l'energia. Come la disperdi l'energia nel giudizio, con la mente, con i pensieri. C'era Yogananda che diceva non lasciare che il latte della tua coscienza si disperda dai buchi della tua mente. Cioè fare pensieri non è gratis, i pensieri disperdono l'energia, i giudizi disperdono l'energia, la mancanza di presenza e consapevolezza disperdono l'energia. Primo dato che viene molto trascurato, prima cosa che puoi fare, sii consapevole, preserva la tua energia. Puoi essere in contatto con l'energia. L'energia non è che ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Siamo immersi in un universo ricco di energia. Siamo in campi energetici. Tutto è energia, quindi siamo costantemente in contatto con l'energia, ma noi ce ne accorgiamo. Per cui stare in contatto e ascoltare il proprio ritmo interiore è uno dei primi, dei modi più saggi e più funzionali per avere energia, cioè essere in contatto con l'energia che c'è. E poi tu puoi anche essere in contatto e puoi anche non disperderla, ma se non metti in fluidità il sistema, cioè se non lasci scorrere, se non lasci muovere l'energia che hai, come immaginati un fiume dove metti delle dighe. L'energia arriva, ma si blocca. Non solo si blocca, ma produce patologia. Pensa all'ansia, agli attacchi di panico, è energia libera che non sa dove andare. Quindi lascia fluire l'energia, non controllare, non bloccare. Scori insieme, stai nella fiducia, segui le linee di minore esistenza come insegna la natura. E poi certamente puoi anche aumentare il flusso di energia e la performance, la capacità del tuo organismo di elaborarla. La capacità del tuo organismo attraverso pratiche interiori, attraverso buoni cibi, certamente, attraverso attività sportiva, certamente, ma soprattutto avendo l'atteggiamento giusto, realizzando quella sinergia per la quale tutto funziona in risonanza. Insomma, ne abbiamo di cose da fare senza stare a preoccuparci di questa follia che ci sta intorno. Non cadiamo nella guada di reagire, di sprecare la nostra energia combattendo la follia. Riconosciamo e padroneggiamo la nostra energia e abbiamo la capacità di fare quel salto di coscienza e avere quell'atteggiamento necessario per passare attraverso tutto ciò. Grazie. Grazie.